buonasera 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 silma se degli acci silma dice che il nuovo è una bomba mi fa piacere l'idea di a meno avviarlo stasera buonasera anche gli acce dicevo che dice presto stasera beh otto e mezza non sappiamo quanto ci vuole a finire ancora dovrebbe mancare io punto su un paio d'oretta volendo proprio esagerare ma e gli acusa e non sappiamo mai come può andare a finire quindi poiché mi ha scompaginato i piani il fatto che infinite wealth sia uscito oggi mentre ero convinto che uscisse domani e quindi mi va di almeno avviarlo stasera poi non so con che ritmo di giocheremo perché vorrei giocare prince of persia che ho un mese di abbonamento e vorrei finire prima che scadano però intanto dobbiamo dobbiamo voglio iniziare che se no sono troppo curioso e siamo all'ultimo al momento finale adesso in poi mazzate e filmato con se filmati consecutivi ho un sacco di soldi ma non li posso più spendere perché non c'ho più punti a came li ho finiti e non mi metto a fare missioni a came adesso tanto speso tanto di dovrei essere moderatamente forte per da qui alla fine del gioco ho una quantità in via riconda di beveroni tutti quelli che potevo comprare li ho comprati tutti o ancora altri 12 12 milioni di yen tipo ma non so che farci di stato manca un'oretta e poi c'è una trella ma non è questo perché questo è un gioco breve sappiamo che dura massimo una mezz'oretta dura massimo una trentina di ore e noi non siamo lontani dalle trentine di ore quindi poi l'ultimo capitolo quindi no non mi aspetto di più di un paio d'oretta secondo me diventa tutta quanto durano le mazzate fondamentalmente e quante sono fosse stato un capitolo di quelli di quelli grossi allora avrei dubitato dai ci siamo believe ma chi devo menare a parte il tizio che era morto ma non è chi altro devo menare scusate io appunto ancora per fatto che uno di questi due ci lasci le penne almeno eh fino alla fine del gioco no 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 Sì 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 Ah, il ped, il ped! Uff, accidenti, ho scorto sempre, no! Meno male che è un gioco che si ripiglia, non si impalla, non salta le cose. Devo comparmi uno di quegli affari che fanno muovere il mouse per la gente che fa finta di lavorare da casa, no? Però mi sa che col ped non cambia niente, si spegne qua. Cosa? the the i 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 Ma... ...d'essere che non mi ha fatto un po' di risposta. Mi ha fatto che non mi ha fatto un po' di tempo. E' un po' di risposta, ma non mi ha fatto capire un po' di risposta. Non mi ha fatto un po' di risposta. Non mi ha fatto capire. Segui che il risposta, sono sicuro che ti puoi fidare di Nishitani ma sono sicuro proprio non è vero chi è il nome? Ma che sto non so, per me è venuto a te, per me, a te. Ma che ti prego, per me e che ti prego. Ma inizia la mia a te. Il fatto che la mia a te, è stato stato una cosa che ho detto. Dicendo le scelte, Surtro. Noi non riesci a parlare. C'è un po' di questo... C'è un po' di me, anche gli Oumi... Il mio amico di Vatase ha scattato... C'è un po' di me, che credo che mi ha fatto così... C'è? C'è un po' di me... C'è un po' di me... C'è un po' di me... ...è quel ghi CHRY... Le ho un po' di me... C'è un po' di me... È un po' di어가 anche qui Pixel 5... Sono tanti ma io le scarpe il razzo a livello 5 Avrei potenziato pure il razzo ma non ce la faccio Non c'ho even le risorse Non c'è nessuno Non c'è nessuno È un'impegno. Sisi, mi paremmo che ci sono stati in un'impegno, ma c'è un'impegno di un'impegno. Ma c'è un'impegno molto grande. Se non si non si può fare qui, se non si può fare qui, se non si può fare qui. Non è un'impegno che non si può fare. Sì, solo che ci sono qui qui, potrebbe essere uscita per me? Molto, no? Prendi un video di nuovo, Alla prossima, Alla prossima. Ha avuto roba il cazzo a me questo Devo spargere un po di gente a vialvo con tutto sto spazio è troppo divertente ancora Mi viene a inseguire con la katana è bellissimo Grazie a tutti Che palle sta attacco fumogeno Devo arrivare lì ci abbiamo il rampino è il momento persona 5 Apriamo un beverone dai il primo beverone della giornata Ne ho comprati giusto un po' C'ho una farmacia presso bellissimo Voglio questi qua sono pure a batata pezzenti Aumento pure il furore a sto punto C'abbiamo i tauriner qua Ah era B Era B il tasto Guardalo meglio di Batman Ma non sta facendo effetto Ricarica la barra a fervore e non funziona L'ho usato e non sta facendo effetto Cosa mi sfugge? Ah perché forse è in fase di scaricamento la barra E che palle fa pure un sacco di danni ovviamente Vorrei liberarmi prima degli altri Ok questo è andato Chi è rimasto? Solo quello? E' morto? E' andato? Ok Parliamo necessità Niente Flashbang per favore Dai che sei andato Non mi fa perdere te E' uno Vai guatasse Alla un faccia guatasse Sono le spugne questi Mannaggia Sono le spugne allucinanti Shishido Fatti i cazzi tu E' un attimo Posto Eh va fammi gioca Eh Watasia Chi stai mirando? A me Watasia Ha qualche problemina Eh L'ho messa a giro Vai vai Ah ma pure se Pure se è stordito Non funziona Un po' più proattivo E' tanti saluti Ora a te Ok abbiamo finito Pensavo fosse molto peggio Chi altro devo menare? Non mi rimane Non mi rimane In mezzo Suppiti i personaggi Eh no E vince Kiryu E' un vestito Come Aaron Benji Un po' si Un vestito In la me Ok Vai Watans E' ancora Gli ammola Piava il cellulare O che stai E' un vestito E' un vestito Eh non sapevo che succedeva Questa non muore mai Oh eh E' infatti Muore No Watase-san Va mori E' infatti No, questi sono i buoni Alla fine mi sta simpatico pure lui Diciamo che la vera protagonista del giovane è lei Sarà morto? Probabilmente no, però credo sia finita la sua partecipazione al gioco, io spera Pazzo, ma... è pentata a tutto comunque lei, eh? Veramente numero uno Peccato togliersi questo... questo splend... questo splendore Ah, guarda, proprio il gessato per il... Per Wattase Che ha appena avuto una pugnalata nella stomaco è come se avessi avuto una puntura di zanzara Noi Sì Non c'è nessuno che non c'è, Czruno. Non c'è nessuno che non c'è più difficile. L'azienda, non c'è nessuno. Il mio padre è stato spesso a cuore. E' quello che ho fatto per oggi, è quello che ho fatto per oggi. Ci sono state fatte per farlo. Non c'è nessuno. Perché il mio padre è stato spesso a cuore? Non c'è nessuno che non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Pure l'occhialino Stanno facendo degli sbalzettini di corrente Ecco tipo adesso Spero che non salti nulla Abbiamo avuto problemi in live Mi pare di no però Don't me sapere Oh,ジョウリュウ, nani? Anche a te la prima volta Non ho pensato che non mi pare di stare a casa Grazie a te, Aka-me E' un po' di rinforzare E' un po' di rinforzare Che cosa è che non mi pare di rinforzare E' un po' 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 di rinforzare Lascio là con 20 chiù Una trentina di poracci scatofati Ancora vivo lui Attenzione, ancora si muove Potrebbe essere il terzo colpo di Cher Non credo però Tutto è possibile in sti giochi Un inseguimento In autostrada Non... Non è così Si la a condivnare a un attendo Si si può E' un po' di rinforzare E' un po' di acqua E' un po' di rinforza Ma'è un po' di rinforzare E' un po' di rinforzare Non ci scatofati Non ci ruzie Si sono fan di anawa comunque in generale in generale oh quanto tempo è che non ci venivamo qua sfrugulea no, sfrugulea, non c'è niente da fare ma ora che vedono Chirion lo sanno già tutti loro no, no, il pedo, ma vaffanculo, ti ho distratto un attimo ero concentrato, cazzo devo stare l'altro pedo, non giochiamo a Yagoda quello dura di più, si spegne si spegne molto più lentamente no, 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 non c'è eccoci tutti i guaglioni ci stanno eccoci in questo modo i giocci i 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 la scena c'era pure nell'altro gioco mi sa qua com'è bellino Daigo eh lisciatissimo no i i i i Sì, ci sono i nostri amici di Arrakawa Massimi. Sì, vieni a te! 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 Saijima... Vieni a te! Che te! Vieni a te! Vieni a te! Vieni a te! Vieni aaderspati in questa prima cosa. Chi è la prima cosa? Ma? Vieni a te! Vieni a te! Vieni a te! aga di avete! A te! ma c'è pure il tizio coreano è tipo la puntata di star trek di space nine quando vanno entrano in una vecchia puntata della prima serie e si infilano nelle scene che loro stanno lì che guardano ma ricordavo e qua abbiamo menato un sacco di gente allora tutti c'è un punto la squadra nostra c'era ok No, no, no. C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? Beh, è bella questa scena, dai. Almeno per i fan della serie. C'è un'altra cosa? 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 Ok, andiamo a andare! Non c'è Harry nemmeno qua! Ha 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 ha! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! 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 Sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! 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 Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì! Sì, 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 sì! Sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! 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 Sì, sì! Sì, sì! 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 ! ! Sì! 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 ! Sì! ! Sì! Sì! ! ! ! ! ! Sì! ! 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 come si chiama adesso giovanni esposito non si chiama pochino si chiama cario un po' zundere qua anawa ma non perché ti voglio bene stiamo amici ecco suzuki taichi ah è nel 5 ok ecco perché buonasera si però mi diceva veramente niente ora usciamo a parente a presto C'è un sacco di potenza che non conoscevano l'accommodo. Alla prossima. Alla prossima. Oggi ottenete Chiusa Bella, ben giocata Tanto non gli daremo manco dieci minuti di tempo Probabilmente per riposarsi Beh, 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 dai Sto giocata bene, insomma Devo dire che le prime orette Non mi stavano facendo impazzire Proprio se è girata bene, dai Non sarà like the wind lì Come si chiama lì Alla fine una trentina d'ore quasi mi è durato Una durata rispettabilissima Non molto meno di quanto mi è durato Credo un Kiwami No, in realtà i giochi secondari li ho fatti Approfonditi Alla fine ho sempre i sessi L'unica novità era L'arena più che altro Perché poi il giochino delle signorine L'ho fatto un po' ma è noiosissimo Gli altri roba che erano già in tutti gli altri Yakuza Però sì, non li ho fatti Come non li ho fatti in Kiwami Per dire, non li faccio quasi mai Ne quelle robe lì Cioè l'unico gioco in cui mi sono azzeccato Fino alla fine era Elka Draco E ho fatto un po' tutti i miei giochi Però per dire Il cosa delle macchinine L'ho sempre ignorato In tutti gli altri capitoli Golf, freccette, biliardo Quelle robe lì Non le ho mai mai giocate E quando ci faccio i miei cristiani Pure per questo Soprattutto che ho un capitolo secondario Diciamo Cioè secondario No, diciamo minore E l'azienda era Era Elka Draco Che poi è un miei gioco del cazzo Però ti ci azzecchi Perché fai un sacco di soldi Tra l'altro Il Elka Draco c'era quello C'era il C'erano i go-kart C'era l'arena Abbiamo fatto pure l'arena L'unico che devono aver finito Il Elka Draco E' quello in cui dovevi raccogliere le bottiglie Con la macchina lì Con la macchinina Che era carino pure Ci ho giocato un po' Però per i miei standard Ma infatti è quello che mi è durato di più Quella Elka Draco mi è durato più di 100 ore Nemmeno Yakuza Zero mi è durato tanto Anzi Yakuza Zero col fatto che era il primo E non avevo proprio idea di cosa aspettarmi Un sacco di cose Le ho proprio zompate Ci dovete più grosso rispetto a cosa però Rispetto a questo non ci credo Rispetto all'altro Elka Draco Spero non sia così tanto più grosso Perché lo vorrei pure finire entro l'anno C'è tutta quella parte di Animal Crossing Lì che non so Devo vedere come funziona Non so manco convinto che ci giocherò troppo Vedo se c'è una scenetta post credit Chissà Sì la mezza idea che ci sia una roba tipo Pokémon Non la sapevo Non mi anticipare però nient'altro Io non lo sapevo la voletta Però è nel gioco stesso Perché c'erano pure prima C'erano i come cacchi si chiamavano i C'era un nome C'era già una roba del genere In un altro Yakuza In cui dovevi raccogliere delle carte forse Di questi mostriciattoli Che facevi combattere Poi tipo Se non ricordo male Però mi pare che la fatta Tutta la storia del resort Da gestire È tipo una modalità esterna Se l'ho capito bene Non so passati ancora i localizzatori Sega li mettene No i titoli Chissà Mo ce lo conunciamo un po' Eh L'H Dragon Non ve ne andate Un'oretta ce la facciamo Tanto in un'oretta non succede niente Erano solo chiacchiere La prima oretta Come qualsiasi Yakuza O l'H Dragon Che si rispetta Ormai devo smettere di chiamarli Yakuza Non si chiama più Yakuza Ah eccoli Sono loro Sono Sono già passati Gli italiani E me li sono persi Maledizione Deiode Davro L'avete tradotto voi? No Ah c'è qualcuno lì Non so se siano tutti i localizzatori Ma Mi sono distratto C'erano tre italiani nel mucchio C'erano tre italiani nel mucchio Me l'aspetto una scenetta dopo i titoli Dai Erano i primi della lista grossa Ok vabbè L'importante è che c'era Poi se qualcuno si sta chiedendo Ma perché ti guardi sempre tutti i titoli Non lo so È diventata tradizione Mi sembra di dare un minimo di riconoscimento Alla gente che ci ha lavorato E poi fai un attimo sedimentare le emozioni Poi non è come al cinema che c'è la gente che deve uscire Ah ok Sarà quel filmato in cui Ah no pensavo fosse già la Questo passate comunque tre anni Dalla fine di quel gioco E l'inizio di questo Pensavo fosse la scena di casuga nudo Sulla spiaggia Non si può guardare però Possiamo dire Con sto sale e pepe qua Sarà l'abitudine Non si può guardare Ah è andato a portare l'anello di lei Alla chiesa Giusto Eccerto E si chiude il cerchio Come inizia il primo gioco Questo Come inizia il primo Yagut Carino sta cosa Deve farti Di metterci il continuo Io salvo Ma tanto questo lo devo disinstallare Ma io capisco Un sacco di spazio pure Avventura premium Non lo faremo Immagino che mi porta al menu Vabbè bella gente Io direi che senza nemmeno Non la voglio giocare La versione di prova Di like a dragon Per un motivo Che sarà immediatamente evidente Di l'ho